Si chiude con il passaggio del turno delle squadre Possaccio A e Possaccio B, la prima fase dei campionati d'Italia di Raffa per società. Grazie all'ennesima vittoria per 6-2 del Possaccio A sulla Fratelli d'Italia, dove stenta ancora un po' la terna, mentre sono imbattibili le due coppie, il team verbanese, che ha terminato con tutte le vittorie e le quattro sfide, 12 punti contro i 6 della quotata rivale, affronta oggi, sabato, l'equipe lombarda del Marino, che ha chiuso il primo turno con 10 punti davanti all'Accadoraghese. Da adesso in avanti sfide con battaglie di sola andata e ritorno. Il Possaccio B, dopo aver battuto in casa 6-2 la canonichiese di Bergamo, ha passato a sua volta il turno, anche se in queste ore gioca a San Mauro, nel Comasco, l'ultima superflua sfida, per poi scoprire chi sarà la prossima rivale, una tra la Fadigati di Cremona o la Montata Carra di Mantova. Fuori dalle prossime gare di campionato, invece, la squadra femminile di Possaccio, che prima di cedere alle più forti rivali della Fratelli d'Italia, si è però presa il lusso di prevalere almeno nella sfida di Terna, 8-6. Senza storia, l'ultimo incontro della loro avventura contro la Caccialanza a Milano. Infine, nel campionato di categoria C, giochi finiti per Trobaso, già ad un match dalla fine, dopo la sconfitta, 6-2 contro Ternatese. Il passo d'addio, sabato, in casa, contro la Crevese. Nel frattempo, bella prestazione di Max Chiappella del Possaccio, nel trofeo Pasotto, gara nazionale sui campi della Caccialanza di Milano. Dopo aver eliminato Luca Morlacchi e poi il favoritissimo Mirko Savoretti, Chiappella ha ceduto 12-10 al giovane campione Luca Viscusi, che poi, in finale, ha battuto un altro grandissimo, Gianluca Formicone. Grazie. Grazie.